Roberto Formigoni rilancia il progetto di una grande macro-regione settentrionale. Il governatore Lombardo oggi incontrerà a Trieste il collega del Friuli Venezia Giulia Renzo Tondo per discutere del progetto. A fine settembre sei presidenti delle regioni del nord si incontreranno per mettere nero su bianco una prima bozza della regione che verrà. Area C di nuovo nel mirino del centro-destra. La Lega Nord ha annunciato l'intenzione di coprire dal 1 settembre i cartelli che segnalano l'entrata nell'area della congestion charge milanese. Secondo il Carroccio infatti c'è il pericolo che turisti o milanesi poco informati possano inconsapevolmente pagare il ticket sospeso dopo la sentenza del Consiglio di Stato. Un imprenditore cingalese di 54 anni è disperso da ieri nel Lago Maggiore. L'uomo residente a Milano era in compagnia di familiari e amici. Dopo essere entrato in acqua con la figlia 17enne ed altre persone avrebbe cominciato a dannaspare e sarebbe rapidamente scomparso. Le ricerche sono proseguite per tutta la giornata di ieri. Un ragazzino di 13 anni di Leffe in provincia di Bergamo si è schiantato contro un'auto mentre era in sella la sua bici, restando ferito in modo grave. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio a Rovetta. Il 13enne si trovava in compagnia di un suo coetaneo, percorsa in bici una discesa, non si è fermato in incrocio ed è finito contro la fiancata di un'auto che stava arrivando da un'altra strada. Il ragazzino ha picchiato la testa, è stato soccorso dal 118 e in prognosi riservata agli ospedali riuniti di Bergamo. L'isola pedonale sui navighi diventerà permanente. Fissate le tappe del progetto, dopo la riunione del distretto urbano del commercio e il parere dei consigli di zona 6 e 7 che si confronteranno con la cittadinanza, la giunta Pisapia istituirà il blocco definitivo alle auto nell'area del Ticinese e prorogherà le zone a traffico limitato nelle strade attigue. Cantieri estivi chiusi e viabilità ripristinata in molte vie della città per il rientro di massa dei vacanzieri. Riapre a Milano Viale Renato Serra tra Viale Scarampo e Via Traiano in attesa che a ottobre venga inaugurato il nuovo ponte ciclo pedonale. Terminati i lavori anche in Viale Bianca Maria e in Viale Corsica nel tratto tra Viale Campagna e Via Battistotti Sassi. Il Milan corre ai ripari. Dopo la sconfitta di ieri contro la Sampdoria, Adriano Galliani ha ripreso il forcing nei confronti del Real Madrid per riportare Cacca in rosso-nero insieme al centrocampista di Erra. Resta lo scoglio della contropartita. Il Milan chiede il prestito gratuito mentre i Blancos vorrebbero cedere il brasiliano a titolo definitivo.